Cinque minuti prima avevo offerto il caffè alla responsabile personale. Alle 11 ci hanno dato questa notizia a tutta la RSU, insomma, e dopo che l'abbiamo condivisa con i nostri colleghi. Una doccia ghiacciata è così che la definiscono i dipendenti della Unilever di Sanguinetto. Il dado da brodo classico del marchio Knorr non nascerà più nello stabilimento della Bassa Veronese. La produzione si sposterà in Portogallo. La multinazionale angolo-olandese ha annunciato che il reparto chiuderà e che dei 161 dipendenti in 77 rimarranno a casa. Licenziamenti considerati definitivi, niente cassa integrazione né altri ammortizzatori sociali. Drammatica, cioè lavoro da solo, sono sposato, ho due figli e quindi è dura. Onestamente alla notte non riesco a dormire tranquillo, poi al mattino il primo pensiero è quello. Dietro al licenziamento collettivo la continua diminuzione della richiesta di mercato, il conseguente calo del fatturato, spiega l'azienda, che interpellata risponde tramite una nota in cui smentisce in modo categorico la chiusura totale dello stabilimento. I lavoratori, scesi in strada per scioperare, però faticano a crederci. Ancora fresco il ricordo delle 28 uscite dell'anno scorso. Non sono stati in grado di darci alcuna garanzia di possibili futuri investimenti per le produzioni rimanenti. Le nostre preoccupazioni sono che siamo alla seconda fase di una prima iniziata l'anno scorso e una terza che mancherà, è solo questione di tempo. Una eventualità che si abbatterebbe come un boomerang sulla piccola comunità. Consideri che prima l'Unilever era l'azienda più importante del nostro paese. Con il dimezzamento l'azienda più importante diventa la casa di soggiorno per anziani, il che la dice lunga su come siamo messi. Qua ci sono altre tante famiglie stagionali. Anche noi nell'angoscia e nella disperazione totale. Non c'è più nulla. Tutti fanno quello che vogliono, vanno dove vogliono e spendono i soldi dove vogliono. E però intanto qua l'ambiente sociale va a sfaccelli, a sfaccelli. Adesso basta, qualcosa deve cambiare.